Ciao ragazze, allora questo è un video annuncio per dirvi che sto per fare un meet up, un meet and greet, insomma un incontro quindi vi devo dare tutta l'informazione Allora l'incontro sarà a Roma, lo so, lo so che molto spesso gli incontri vengono fatti in queste città che sono poi le più grandi in Italia eccetera Ma credetemi che io faccio di tutto per arrivare ovunque, solo se ancora non ci sono riuscite perché veramente fino adesso non è stato possibile Ma ci sarà una sorpresa molto presto che tante di voi stanno aspettando in una città in cui non ho mai fatto un incontro Quindi vedremo se indovinate di cosa si tratta nei commenti ma torniamo al clou del video che io mi lascio sempre andare in parentesi infinite Il 25 marzo quindi prestissimissimissimissimo questo mese il 25 marzo ci sarà un incontro e lo farò a Roma Vi do adesso tutte le informazioni, allora il 25 marzo inizieremo alle 17 quindi mi raccomando vi aspetto tutte lì 25 marzo, sto ripetendo 100.000 volte, 25 marzo alle 17 al parco Leonardo di Roma che è appunto un centro commerciale Io sarò lì ad aspettarvi tutte quante per abbracciarvi, abbracciarvi, farmi foto con voi oppure fare foto a voi Non lo so, c'è tutto quello che volete, io vi aspetto lì naturalmente Vi devo dire anche il perché di questo incontro perché vi ricordate che sono andata a Los Angeles per Universal Per il film Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio Ebbene anche questo evento sarà sponsorizzato insomma da questo film quindi ci saranno tantissime cose a tema Truccherò una di voi a tema quindi insomma sarà una cosa molto molto interessante, molto molto carina Spero che vi piaccia questa idea, naturalmente appunto come vi ho appena detto posso firmarvi il libro, farmi foto con voi Fare video messaggi sul vostro cellulare, qualsiasi cosa voi vogliate insomma quindi Dalle 17 io sarò lì il 25 marzo che è un venerdì al parco Leonardo di Roma Vi aspetto, spero che appunto siate felici tanto quanto me per questo incontro perché io sono sempre felicissima Felicissima di conoscervi, di abbracciarvi e di riabbracciarvi se siete già state ai miei incontri Quindi insomma non vedo l'ora e sono sempre emozionatissimissimissima Anche se ho fatto tanti incontri sono sempre super emozionata mamma mia Quindi insomma voglio dirvi che è gratuito l'ingresso perché mi viene sempre chiesto tipo Sì naturalmente è gratuito non è che dovete pagare per venire lì a sedutarmi Anzi sarò io che sono contenta e vi ringrazierò se verrete a vedermi insomma anche perché io Ve lo dico sempre però è così Io vi vedo, cioè voi vedete sempre me però io purtroppo non ho la fortuna di vedere voi Quindi se venite insomma finalmente posso vedervi dal vivo Anche se siete solo curiosi, curiose di vedermi dal vivo perché non mi avete mai visto dal vivo Sono in video e volete vedere se veramente sono così o magari sono completamente diversa Io vi aspetto prestissimo il 25 di marzo a Roma Mando un bacio gigantissimo, non vedo l'ora e a presto, ciao